La zittiscono chimicamente Da quando il medico mi fa prendere le medicine ho cambiato personalità e non soffro più come prima in certe situazioni Quando smetto però di prendere le medicine ricomincio a stare male Commento Le medicine non curano la limitazione che ci fa soffrire La zittiscono chimicamente Per superare la limitazione non dovremmo prendere medicine e osservare continuamente la nostra limitazione Questo ci aiuterebbe a superarla più velocemente a uscire dalla grisalide e diventare un nuovo essere anche se evitando le medicine con maggior dolore Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!